Ciao ragazze, oggi vi vorrei sfogliare il catalogo Avon di Campagna 4 che va dal 17 di maggio al 6 di giugno. Vediamo che cosa c'è. Qui troviamo una pochette porta cosmetici per ogni due prodotti acquistati da pagina 4 a pagina 15, la potete avere a 5,99. Poi, novità ci sono della Mark, queste due in uno tinta labbra lip tattoo in queste varie colorazioni a 7,99 euro. Molto interessante. Poi qui ci sono appunto i look di tendenza, vi fanno vedere un attimino. Poi, tinta labbra 6,99 euro, i rossetti prism a 6,99 euro, olografici, anche qui troviamo i rossetti epic a 6,50 euro, in promozione. Le matite labbra 4,99 euro, super scontate. Poi, make-up. Qui ci sono il profumo incanto con tutte le lozioni, eccetera, l'olio da bagno. Profumini, sempre scontati. Qui abbiamo il correttore a partire da 3,99 euro. Se... no, cosa dice? Per ogni prodotto acquistato da pagina 24 a pagina 47 puoi avere un fondotinta cremoso in finitura e in polvere a 6,99 euro. Qui troviamo già un po' di terre, un po' di illuminanti e bronzer. 6,99 euro il fondo, della Calming Effects, sempre make-up, volume a soli 5,99 euro, i mascara. Poi, matita sopracciglia a 3,99 euro, quella per gli occhi a 3,99 euro e anche qui le waterproof. Sempre in promozione troviamo anche queste cose qua. L'eyeliner a lunga tenuta, fantastico, a 5,50 euro. Sempre nuove tonalità delle matite occhio-ombretto a 6,99 euro. Poi, sempre prodotti per le sopracciglia in promozione, rossetti. Questo set manicure a 20,99 euro. Qua ci sono l'asciugasmalto, la penna correttiva e vari trattamenti. Un po' di pennelli, anche qui. Colortrend rossettini a 3,50 euro, smalti, nuove colorazioni. Anche qua troviamo sempre degli ottimi prezzi per la Colortrend. Ecco qui, cipria anti-effetto lucido. Poi la lax, sempre maschera serie new 9,20. 14,50 il set pur blanca. Shant Mix è una novità, questa armonia floreale acquatica muschiata a 6,99. Qui c'è la novità ed è il profumo Attraction Sensation per lei. Qui profumini. Ancora profumini in promozione. Tutti e due, 18,99 euro al Pierce. Uh! Confidence. Illuminata a 3,36 euro. Qui ci sono i roll-on, 3,50, adeosfera. Maschere varie. Per ogni prodotto acquistato, il secondo ha solo 1,99 euro. Anche qui troviamo della stessa promozione. Qui ci sono set da viaggio Glow. Contiene manopola struccante e guantino per le correzioni. Un detergente magnetico e un gancio a ventose in bustina. Riutilizzabile da 1 a 3 mesi. E qui c'è il latte detergente rigenerante Avontru, che è una novità. Qua troviamo due BB cream a 14 euro dell'Avontru. Le varie cremine, sempre ottimi prezzi. Platinum 55 euro il set. Ottimo, ottimo. Anche qui promozioni sulle linee anti-age. Qua c'è la protezione solare anti-age. New. New. I prodotti Avon Casa in promozione su catalogo. Anche qui ci sono i vari coltelli. Ci sono un sacco di cosine in promozione. C'è la macchina del caffè. Le tazze. Vari prodotti per l'armadio. Asciugamani a 14 euro. Qui altri prodottini interessanti. Poi inizia l'abbigliamento. Questo vestito. Borse, scarpe. Sempre novità. Anche qui. Vado un po' veloce perché è lunghissimo il catalogo. Pigiamini. Questo è quello che ha preso mia sorella in anteprima. Ecco come viene indossato. È molto carino. Altre pigiami. Intimo. Anche qui. Ci sono sempre delle belle cosine. Fregiseni. Vari modelli. Tendenze, moda, estate. E iniziano i costumi. Tropicali. Vari costumini. Molto interessanti. Con gli occhiali da sole. Ecco qui. Una gonna di quelle lunghe. Anche qua. Sandali. Vestito. Anche qui. Sandalini. Anche qua troviamo altri sandali. Novità alla tua altezza. 19,99. Iniziano i bijoux. Sempre molto belli. Molto molto carini. Qui ci sono un po' di outlet esclusivi. Anche qui promozioni di fine serie. Con lo sconto fino al 60. Troviamo un po' di prodotti. Qui abbiamo novità. Shant for men. Masculine Woody. A 6,99. Per ogni prodotto acquistato potrai avere il secondo a 5 euro. Anche qui profumini. Da uomo. Tutti e due 16,99. Stessa cosa qui promozioni. Tutti e due 18,99. Con la novità Attraction. Armonia orientale. Forger. Anche qui sempre in promo i vari profumi. Avon Aspire. 12,99. Qui abbiamo i mask marine. Molto buoni. Qui c'è il cobalt. Blast. Bagno schiuma. Novità. Energizzante. Intimo. Orologi. Varie cose da uomo. Poi partono i sieri per i capelli. 3,10,95. Shampoo. Eccetera. Ogni shampoo acquistato puoi avere un trattamento a scelta a 3,50. Anche qui troviamo le varie spazzole. Varie cose. 2,99. Abbiamo gli spray della Naturals. Qui 2,50. Quelli profumati. Intimo. Questo qui l'ho ordinato e non mi è arrivato dicendo che era esaurito. Quindi non so se sarà di nuovo disponibile. Dato che qui l'hanno rimesso spero che torni disponibile che lo vorrei questo qua da provare. Qui abbiamo questa che serve per ridurre la cellulite. E' un guanto da massaggio. 2,00 a 14,90 euro le ozioni. Prodottini per i piedi. Anche qua. Qua inizia una novità della Von Care. Abbiamo la banana, crema a mani, lozione corpo, maschera per il viso. Tutti e tre 7,99 in super promozioni. Se prendete questa lozione Max XXL la pagate 5,50. Qui abbiamo le altre linee. Al cocco, miele e yogurt. Poi inizia la spa. Che ci sono anche delle maschere. Questa qui è una novità. Levigante. Deodoranti. Bagno schiuma. Anche qui Bubble Bat. Ogni prodotto acquistato. Il secondo a scelta. Vabbè, scelta sì. A 2,99. E qua abbiamo i detergenti Havagers e Frozen. Qua c'è il telo mare. Una novità a 16,99 in cotone. I solari. I mancabili per l'estate. Eccoli qui. Ci sono tutti. Anche per i bambini. Vedete. Ecco. Tre prodotti. 15,99. E qui in fondo troviamo degli smalti in varie tonalità. Eccole qui. Una 2,99 e 2,5 euro. Qui ci sono le basi top coat e quant'altro. Maschere idratante per le unghie. E qui dietro i mini profumini spray da viaggio 7,50 euro. E niente ragazzi. Questo è il catalogo nuovo di Campagna 4. Spero che il video vi sia stato utile per vedere le novità e i prezzi. Se non volete sapere qualche informazione in più scrivetemi qua sotto che vi rispondo. Mettete un bel like al video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi. Vi saluto e al prossimo video. Ciao.